Parte lunedì 30 giugno, il servizio sperimentale Muoversi in Toscana Info, che ha spiegato l'assessore regionale alla mobilità Vincenzo Ceccarelli, diffonderà quotidianamente ogni mezz'ora dalle 7.30 alle 20 notiziari sul traffico automobilistico e ferroviario, navale e aereo sul territorio regionale. I notiziari saranno diffusi attraverso tv, radio, siti web, web tv, social media. Presto sarà pronta anche un'app interattiva. Muoversi in Toscana è stato costruito sull'esperienza positiva, maturata durante i mondiali di ciclismo nel settembre scorso. Abbiamo peraltro lavorato ad un progetto finanziato dal Ministero, che era quello del Supervisore del Traffio, che ci consente anche di raccogliere informazioni sul territorio effettivamente in tempo reale, quindi è importante che queste informazioni vengano ridistribuite ai cittadini in modo da poter utilizzarli al meglio. In questo modo pensiamo di dare veramente un'informazione capillare e di aiutare a potersi muovere con maggiore cognizione, evitando situazioni di criticità. Il servizio resterà attivo fino al 18 ottobre, fornendo notizie anche in occasione della riapertura delle scuole. A realizzare notiziari, bollettini, post e tweet sarà Florence Multimedia, la società di comunicazione in aus della provincia di Firenze.